adesso le nostre telecamere si sono spostate a morigerati e sì anche in questo comune pillole di natale ha trovato un ottimo posto per qualche consiglio per i vostri regali venite con me salve buonasera dottore allora perché non pensare che in una farmacia ci possa essere l'oggetto giusto anche per il nostro regalo infatti sicuramente di quello che io sto pensando è che alcuni telespettatori possano dire ma una farmacia con la scelta di un regalo di natale cosa cosa c'entra e invece sicuramente oggi la farmacia non è più quella di una volta ma parliamo della farmacia dei servizi ovvero di un luogo dove poterti recare e trovare del personale specializzato dove poter proprio prenderti cura del tuo corpo ma a 360 gradi ed è proprio in questo che in cui io vedrei proprio la scelta di un regalo natalizio per quanto mi riguarda Pierluigi io nella scelta di un regalo per natale in questo caso ma anche per qualunque tipo di evento ho sempre pensato a due variabili che sono uno diciamo l'estetica la confezione quindi l'effetto anche sorpresa e l'altro è poi l'utilità del regalo perché alla fine quando andiamo a spacchettare quel pacco ci deve essere anche una soddisfazione anche da parte di chi lo riceve in farmacia l'utilità del regalo è la cosa principale perché qui parliamo di cosmetica qui parliamo di anche di alimentazione di biologico di tisaneria quindi andiamo qui andiamo dalla dalla cura del del proprio corpo da un punto di vista cosmetico alla cura del proprio corpo da un punto di vista biologico da un punto di vista alimentare quindi possiamo veramente spaziare a 360 gradi l'erbolario uno a caso l'erbolario io da un anno e mezzo che ho aperto qui a morigerati e sicilì la farmacia e ci ho creduto sin da subito perché parliamo di di una ditta storica una ditta 100 per cento made in italy 100 per cento bio naturale quindi testata una cosa anche molto importante non sugli animali e quindi una linea dermocosmetica che si prende cura di te a 360 gradi poi però abbiamo tutte le altre linee c'è veramente qui c'è da da spaziare su qualunque tipo di campo un'altra linea l'Iraq se non sbaglio l'Iraq qui siamo a livelli altissimi la linea cosmetica penso numero uno in Francia e qui novità l'Iraq a Natale fa sempre delle bellissime trousse che sono già complete di prodotti per il viso per il corpo dottore gli auguri a tutti è un invito a questo centro perché i regali sinceramente non mancheranno assolutamente faccio gli auguri a te e a tutti i nostri telespettatori di un buon Natale di un felice capodanno e inizio del nuovo anno sperando che questo clima di guerra finisca e ritroviamo anche un po' di pace di serenità un po' per tutti quanti perché alla fine siamo tutti figli di un stesso dio